Lo scorso 27 gennaio ho partecipato all'evento Kat Von D Beauty come top ambassador di Sephora Italia per la presentazione e rilancio della linea in Italia. Finalmente! Se vi ricordate bene, nel mio secondo canale Fairland vi avevo fatto vedere che cosa c'era nella goodie bag. Vi avevo chiesto se volevate vederli in azione, così a grande richiesta ho deciso di realizzarvi un make-up tutorial, un po' diverso dal solito. It's not so bad It's not so bad It's not so bad Come vedete ho già realizzato la mia base e adesso per completare il tutto vado a fare un leggero baking con la Lock It Setting Powder di Kat Von D Beauty aiutandomi con il pennello da contouring il Shade & Light Contour Brush Con la Shade & Light Contour Palette prelevo questo colore più chiaro per andare a scolpire il latino del mio viso e sopra la fronte Ora con un pennello occhi da sfumatura prelevo il colore più scuro della palette e inizio ad intensificare la pietra del mio occhio mentre con il colore più chiaro vado a illuminare l'arcata sopraccigliare Prendo di nuovo il colore più chiaro, questa volta con un altro pennellino e vado ad intensificare anche la rima scigliare esterna inferiore Ora utilizzo l'Everlasting Liquid Lipstick nella tonalità Exorcism che è favoloso, veramente bellissimo come eyeliner, infatti prendo un pennello angolato e inizio a creare la mia winged liner Vado a fare un leggero contouring anche al naso, infatti riprendo lo stesso pennello da sfumatura occhi utilizzato prima con la stessa palette di prima Ecco il trucco occhi completo di ciglia finte, se volete potete lasciare il make up così ma io ho deciso di renderlo un po' gotico con il tattoo liner di Kat Von D Beauty che è favoloso perché è perfetto per questi dettagli, avventura a punta molto sottile e una scrivenza pazzesca Dopo aver realizzato questo disegno al lato del mio viso, completo il trucco con l'Everlasting Liquid Lipstick La stessa tonalità utilizzata prima per fare l'eyeliner E questo è il trucco completato, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo Mi raccomando seguiteci sui social sia Sefora Italia che i miei social Instagram e Facebook Ciao! 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 Grazie a tutti